Aprire una piccola azienda agricola da zero. C'è spazio anche per te in agricoltura, ma sicuramente non nel modo che immagini. Se sei tra quelli che hanno pensato, almeno una volta, di mollare tutto e andarsene in campagna o in montagna a produrre cose buone e genuine, riconnettendosi con la natura, senza lo stress della città, guarda questo video perché ti può essere estremamente utile. L'agricoltura ha bisogno di persone, ma ha bisogno soprattutto di competenze e innovazione. Non bisogna essere ingenui e pensare che aprire una piccola azienda agricola sia il modo giusto per entrare nel settore. C'è una strada alternativa più accessibile e meno rischiosa per avvicinarsi a questo mondo senza andare in bancarotta. Ti parlo tenendo conto sia delle mie esperienze dirette con una piccola azienda agricola in montagna, sia delle decine di progetti che abbiamo valutato con Rurale Digitale. Trovi tutti i link più importanti nella descrizione. E già che ci siamo, non dimenticare un like e la condivisione di questo video. Prima di spiegarti come entrare in questo settore, voglio fornirti due elementi estremamente importanti che non devi mai dimenticare. Il primo è che non bisogna confondere le favole bucoliche con la dura realtà. La realtà è che oggi aprire una piccola azienda agricola che ti permetta di vivere con questo lavoro non è difficile, è impossibile. Le piccole aziende agricole che già esistono in Italia sono in costante lotta per la sopravvivenza e anche se magari hai letto notizie o visto storie su giovani che tornano alla terra, è importante sapere che nella stragrande maggioranza dei casi si tratta di passaggi generazionali. Vuol dire che magari il nonno ha creato l'azienda, il padre ci ha lavorato e il figlio subentra per continuare anche sfruttando un po' i soldi pubblici regalati. L'idea di partire da zero, senza strutture, terreni, attrezzature, una conoscenza approfondita del settore, ma soprattutto senza una buona mentalità imprenditoriale, è una sfida impossibile. Le immagini che si vedono spesso di giovani che decidono di lasciare l'ufficio per coltivare il proprio terreno e vivere felici sono tutte cazzate. Per vivere con l'agricoltura servono investimenti enormi ed è impossibile farlo con un po' di piante, qualche animale, facendo un po' di tutto, magari da soli, come fanno credere anche molte storie assurde che circolano qui su YouTube. Il secondo elemento determinante che non bisogna mai dimenticare è che per sopravvivere bisogna essere grandi. Quindi la maggior parte delle piccole aziende agricole non ce la fa perché non ha le dimensioni per ottenere economie di scala. Questo significa che, ad esempio, per ogni litro di latte, chilo di patate o vasetto di confettura prodotto, i costi sono enormi e i margini bassissimi. Chi ha una grande azienda può ottimizzare i processi, ottenere sconti sui grandi acquisti, negoziare prezzi migliori. Ma se sei piccolo, tutto questo è fuori portata. La tendenza è chiara da anni. Le piccole aziende agricole chiudono. Non è un'opinione, sono dati. I costi continuano a salire, mentre i prezzi a cui si riescono a vendere i prodotti restano bassi. Perché? Perché nel mondo agricolo moderno le piccole realtà semplicemente non hanno la forza per competere con i giganti. E quindi cosa succede? C'è una graduale e inesorabile concentrazione del settore. Questa è la verità che pochi raccontano quando si parla del sogno agricolo, ma che è sotto gli occhi di tutti se si analizzano i dati del settore. Quindi, come puoi fare per entrare nel mondo agricolo in modo sicuro, senza ingenti capitali e senza rischiare costantemente il fallimento? L'agricoltura è un settore essenziale senza il quale non avremmo cibo in tavola. Però, come ho spiegato anche nelle decine di video su questo e sul canale YouTube Rurale Digitale, non possiamo pensare che basti creare una piccola azienda agricola per contribuire a questo settore e vivere felici. Quello che si può fare, in modo efficace, è soddisfare una necessità enorme che c'è. Una necessità quasi sempre sottovalutata, ma determinante per il successo di ogni impresa agricola. No, non sto parlando di qualche prodotto particolare. Quello che manca nelle piccole aziende agricole è la mentalità imprenditoriale, la comunicazione, il marketing e la gestione dei canali di vendita. Qui sì che c'è spazio. Anche di questo ho già ampiamente parlato in dettaglio, quindi ti faccio un solo esempio. Tutte le piccole aziende agricole faticano a raggiungere il consumatore finale, a raccontare la propria storia, a mostrare il valore dei loro prodotti. E chi è bravo a fare questo? Chi sa usare bene i social media? Chi sa creare contenuti che emozionano e che connettono il pubblico al prodotto? Le aziende agricole hanno bisogno di questo. Comunicare efficacemente, raccontare la natura ai prodotti agricoli è un'opportunità, anzi un'esigenza che le aziende hanno ma che sottovalutano sempre. Quasi sempre nelle piccole aziende si pensa che sia sufficiente pubblicare qualche post, qualche social senza avere un piano di comunicazione adeguato, spesso senza nemmeno avere un'immagine, un sito decente o un e-commerce per la vendita online. Tu, con un investimento iniziale piuttosto basso, che poi è principalmente un investimento su te stesso, sulla tua formazione, puoi fare la differenza. Puoi essere quello che porta la storia dell'azienda agricola al pubblico, che spiega bene i prodotti, che fa indagini e ricerche per capire quali prodotti realizzare e come venderli. Quindi, se sogni di sporcarti le mani con l'agricoltura, il modo migliore per iniziare è farlo in questi settori in cui le piccole aziende agricole sono estremamente carenti. Investi sulla tua formazione e porta il valore che puoi offrire in una piccola realtà agricola. Però formazione seria, alla larga dai fuffaguro e da tutti quelli che promettono ricette magiche che non esistono. Spesso, chi sogna una vita in campagna finisce per essere attirato da illusioni per vivere con la terra o per diventare ricchi grazie all'agricoltura. Ci sono tanti corsi e tante promesse, quasi sempre fuorvianti. Bisogna scegliere fonti serie e affidabili, perché se investi correttamente sulla tua formazione non te ne pentirai mai. Impara gli aspetti essenziali dell'imprenditoria. Impara a sfruttare l'intelligenza artificiale per fare ricerca, capire quali prodotti realizzare, come venderli. Impara le basi della comunicazione, del marketing, dell'e-commerce. E offri tuo aiuto a una piccola azienda agricola, a qualcuno che ha già esperienza nel settore. Magari un agricoltore che ha bisogno di aiuto per vendere online o per creare contenuti. Questo ti permetterà di conoscere il mondo dell'agricoltura dall'interno, senza rischiare di rimanere intrappolato nei costi e nelle difficoltà di una piccola azienda agricola creata da zero. Se hai bisogno di un aiuto su questo, ti posso sicuramente aiutare. Inizia guardando i video che trovi elencati nella descrizione qui sotto. Poi iscriviti al canale YouTube Rurale Digitale e poi contattami dal sito www.ruraledigitale.it